Quali saranno i deck più forti durante il secondo capitolo di l'Orkana? Che strategie seguiranno? E quali inchiostri verranno potenziati dalle carte apparse in Rise of the Floatborn? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. L'ascesa è finalmente giunta e con essa nuovi supporti che hanno reso ancor più temibili già pericolosi Inc che nel primo set hanno dominato incontrastati e svelato nuove potenzialità per altre casate che in questo secondo atto giocheranno da titolari e non più come comprimarie. Il gioco di carte di casa Disney ha visto così un rinnovato vigore, presentando a tutti gli illuminari una rosa ancor più ricca di archetipi pronti per essere giocati. E nel video di oggi, grazie anche all'articolo di Andrea Cavallari, membro di l'Orkana League Italia, in collaborazione con Fantasia Store, analizzeremo nel dettaglio le dinamiche che li muoveranno, comprendendone le prime sinergie che vi consentiranno così di accumulare vantaggio ai danni del vostro avversario raccogliendo quanti più punti lor possibili così da garantirvi la vittoria finale. Prima di continuare, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, così crescendo potrò portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram, dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite e molto altro ancora, e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali saranno i mazzi che domineranno il meta durante l'ascesa dei Floatborn, il secondo set di Lorcana. Andiamo a dargli un'occhiata. Ametista Rubino Control Il miglior mazzo Control del primo capitolo di Lorcana si presenta con un arsenale di personaggi e rimozioni tutto nuovo. Il pacchetto dei nuovi personaggi Merlin e Madame Mim, in grado di creare situazioni di 2x1 migliori durante il mid-game, garantisce maggiore solidità in quello che era il punto debole del mazzo durante il primo capitolo. A questa solidità si aggiunge la possibilità di aggredire più facilmente i personaggi dell'avversario grazie a Madame Mim Fox e poi permetterci di impostare una lore race anche in modo passivo con carte come Merlin Goat. Sviluppando più presenza di personaggi sul campo di gioco rispetto alla versione precedente, diventa un consistente valore aggiunto la presenza di Queen of Hearts Sensing Weakness, che ci garantisce un ottimo draw engine andando a sostituire carte non ottimali in tutti i match-up, come Magic Mirror. It's Maskary Beyond All Reason offre al mazzo una doppia funzionalità, consentendoci sia di creare vantaggio carte, sia di rallentare la lore race avversaria se necessario. Kuzco Temperamental Emperor è noto come minaccia temibile, particolarmente fastidioso se giocato dall'avversario subito dopo che abbiamo giocato Be Prepared. Fortunatamente la nuova terribile Lady Tremaine Imperius Queen non ha paura dell'intoccabile imperatore, e ci permette non solo di contrastarlo ignorando la sua abilità ward, ma anche di sviluppare una buona minaccia sul campo di gioco. Da mettere in evidenza l'efficace sinergia con le carte Madame Meme, che ci permettono di riprenderla in mano per poterla giocare di nuovo ed usufruire ancora del suo effetto. I giocatori di Control sicuramente sentivano il bisogno di una rimozione a basso costo per minacce minori, ed il secondo set di Lorcan non ha deluso. Thit and Ambition, infatti, grazie anche alla sostituzione di Archimedes e Sergente Tibbs con Olaf, aiuta molto a contrastare efficacemente le presenze avversarie più aggressive. L'ultima menzione va a The Sorcerer Spellbook, carta che permette di acquisire punti lore senza la necessità di mandare in quest i nostri personaggi, rivelandosi potenzialmente decisiva contro gli altri mazzi Control. Ambra Acciaio Midrange Se Ametista Rubino è stato il re dei Control del primo capitolo, Ambra Acciaio è stato il re del midrange. Anche questo mazzo tier 0, grazie a Rise of the Floorborn, può beneficiare di un nuovo set di personaggi molto interessanti, come Cinderella Ballroom Sensation o The Queen Regal Monarch, e di canzoni come Lead Storm Rage On e Strength Over Raging Fire, che probabilmente lo renderanno ancora più efficace. La nuovissima Cinderella, infatti, grazie al costo di 1, permette di cantare gratuitamente a partire da turno 2, dando così la possibilità di rimuovere eventuali risposte avversarie sin dalle primissime fasi della partita, tramite la nuova canzone Let the Storm Rage On. Assieme a lei anche The Queen Royal Monarch affianca Stitch New Dog come apertura molto valida, in quanto permette di shiftare The Queen Commanding Presence già a turno 2, mettendo così in campo prestissimo un personaggio dagli ottimi valori di forza e volontà in grado di cantare canzoni come A Whole New World o Grabbius World. Non da sottovalutare poi la sua abilità Who Is The Firest, che aiuta personaggi a basso costo a sfidare glimmer ben più forti. Non poteva certo mancare Cinderella Stouterhead, una delle protagoniste annunciate del secondo set nella lista di uno dei mazzi più forti del primo capitolo. Supporto inestimabile nelle fasi più avanzate della partita è molto facilitata nel far sfruttare la sua possibilità di combattere personaggi avversari preparati dalla massiccia presenza di canzoni che, il mazzo offre. La sua abilità Resist più 2, inoltre, la rende quasi incontrastabile per diverse condizioni di colori, risultando una minaccia decisamente temibile. Chiude la serie ed è aggiunta un nuovo blocco di canzoni che va ad ampliare e migliorare quello offerto solo dal primo capitolo. Zero to Hero sostituisce efficacemente Lantern, permettendovi di giocare personaggi di alto costo già nelle prime fasi di gioco, e World's Greatest Criminal Mind sarà probabilmente la chiave per rimuovere Cinderella Stoutered nel Mirror Match. La già citata Let the Storm Rage On, invece, aiuta a contrastare le minacce avversarie con bassi valori di volontà, mentre Strength Over Raging Fire ha il potenziale per essere devastante nei momenti in cui si deciderà di andare all-in, popolando massivamente il campo di gioco. Acciaio Rubino Steel & Blood. Seppur fosse una combinazione ricca di carte controllo e rimozioni sin dal primo capitolo, ad Acciaio Rubino mancava la capacità di imporre il predominio sul campo di gioco e, soprattutto, mancavano le carte in grado di creare vantaggio. Rise of the Floatborn ha messo a disposizione di questa coppia di inchiostri una buona quantità di carte in grado di ricoprire questi ruoli, con personaggi aggressivi sin dall'early mid-game ed in grado di creare diverse situazioni due per uno. Jafar Dreadnought, Whale Set e, in particolar modo, Queen of Earth Sensing Weakness, infatti, riescono ad offrire al mazzo una buona consistenza pescando carte extra dal deck. Risulta distintiva e molto caratteristica di questo mazzo, rispetto alle comuni strategie di gioco, la possibilità di creare una Lore Race attraverso le sfide, anziché le quest. La presenza di Shurkan, Menacing Predator e l'alto numero di personaggi adatti a sfidare quelli dei nostri avversari, donano infatti al mazzo una doppia funzionalità, controllo del campo di gioco ed accumulo di punti lore. Da notare che si tratta di una meccanica particolarmente sinergica con quella della già citata Queen of Earth Sensing Weakness. Se entrambi i villain sono presenti sul campo di gioco, permettono di rimuovere i personaggi avversari accumulando attrettanti punti lore e pescando nuove carte dal mazzo per non perdere il proprio ritmo di gioco. Il deck è ricco di tutte le carte necessarie ad arrestare facilmente la race dei mazzi aggro, ma almeno in queste prime battute risulta avere un match-up negativo contro altri mazzi control. Questi ultimi, infatti, non impostando la propria strategia su personaggi di costo medio-basso, rendono più difficile creare il vantaggio sopradiscritto e mettono Steel'n'Blood nella condizione di trovarsi molte carte in mano che non troveranno il corretto utilizzo. Insomma, tra punti di forza e lati negativi, riuscirà questo mazzo a contrastare il nuovo assetto dei due mazzi tier 0, Ambra Acciaio Midrange e Ametista Rubino Control? Ambra Smeraldo Discard. Come pronosticato nella prima parte di spoiler del secondo capitolo, ha preso subito forma un mazzo basato sull'archetipo Smeraldo Discard, in grado di dire la sua all'interno del futuro meta. Il mazzo che andiamo ad esaminare, infatti, è il vincitore del Battle Beer per l'orcana Duck, un torneo che si è svolto in Germania da ben 102 partecipanti. Nello specifico, le carte del blocco verde sono state saggiamente accoppiate al supporto di Rapunzel Gifted with Healing, la nuova The Queen Commanding Presence, la già conosciuta e temuta You Have Forgotten Me e altre carte Ambra. Il mazzo risulta molto aggressivo e pericoloso sin da turno 2, sfruttando lo Shift 2 della regina a costo 5 per cominciare a cantare tutte le canzoni di cui il mazzo dispone e iniziando a rallentare la strategia dell'avversario, obbligandola a scartare carte dalla mano. In aggiunta alle ritrovate e ben note carte aggro di Smeraldo troviamo Enchantress Unexpecting Judge, ottimo personaggio per impostare una low race e particolarmente fastidioso da contestare per l'avversario durante una sfida. Unitamente alla già nota Rapunzel, inoltre, il nuovo Prince John, Greedest of All, rappresenta un buon motore di pescata capace di accrescere il vantaggio ottenuto dall'utilizzo delle nostre carte discard. Menzione particolare per Flynn Rider, his own biggest fan, mattatore finale del mazzo, pronto a chiudere la partita in maniera molto aggressiva una volta costretto l'avversario a rimanere senza carte in mano. Grazie al gioco aggressivo e all'abbondanza di carte discard, il matchup di questo mazzo risulta positivo contro Mazzi Control, ammesso di riuscire a chiudere la partita prima di addentrarsi troppo nel late game. La debolezza del mazzo infatti risiede nella mancanza di stabilità nel late game e nell'impossibilità di sostenere il ritmo di gioco nelle fasi avanzate della partita come da manuale per ogni mazzo aggro di questo tipo. Forza, controllo e velocità, questi i tre aggettivi che qualificheranno al meglio ogni archetipo che si presenterà ai blocchi di partenza una volta che il secondo set prenderà piede e sono certo che grazie all'arrivo dei nuovi personaggi Disney che abbiamo già visto ogni illuminatore avrà al proprio fianco degli alleati preziosissimi per dire la propria in un torneo locale o di entità ben più alta. Prima di concludere volevo ringraziare ancora una volta Andrea Cavallari di Lore Cana League Italia e i signori di Fantasia Store per aver messo a disposizione l'articolo dal quale questo video ha preso spunto ed a proposito di ciò in descrizione vi lascerò il link al blog dove potrete trovare lo scritto che lo stesso Andrea ha messo a disposizione dell'intera community di appassionati. Non dimenticate inoltre che in data 23 dicembre ci sarà in quel di Milano l'evento più atteso dell'anno ovvero il Lore Cana Goat Capre e Principesse dove molti illuminatori si sfideranno per ottenere alla fine dei giochi il titolo più atteso quello di Greatest of All Time. Anche qui troverete tutte le informazioni utili per iscrivervi in descrizione. E voi quale di questi quattro terribili archetipi di deck inizierete a montare? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.